Cucu! Ciao! Mi chiamo Irene. Cosa facciamo insieme oggi? Dipingiamo una bellissima maglietta. Oggi facciamo Mickey Mouse. Allora, non fate altro che procurarvi una fotocopia o un disegno che vi piace di più. Fate una fotocopia e la andate a ritagliare anche all'interno. Poi, una volta avete la fotocopia, andate a sovrapporla alla maglietta bianca e poi ci pensiamo. Vi dico, cosa dovete fare. Questo è quello che mi viene fuori. Vi piace? Mi sono un po' piccolina ma si può fare anche per adulti e per bambini, non c'è problema. Andiamo a dipingere? Dai, andiamo a fare qualcosa da bene insieme. Ciao ciao, vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!